Passaporti, patenti, carte di credito di svariate nazionalità. Un italiano di 45 anni, originario della provincia di Salerno, è stato arrestato in flagranza ieri pomeriggio dai carabinieri della compagnia di Conegliano in un bed and breakfast del Solighese. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e falsità materiale commessa da privato, le accuse a carico dell'uomo controllato nel corso di accertamenti sugli ospiti della struttura ricettiva. Qui il 45enne si era registrato con un passaporto lussemburghese con generalità straniere, ma era in possesso anche di uno italiano, di uno maltese, di una patente di guida svizzera, una polacca e due carte di credito prepagate e rilasciate da una banca lituana. Le analisi hanno confermato che passaporti e patenti straniere erano falsi, il materiale è stato sequestrato, l'arresto è stato convalidato in mattinata, il giudice ha disposto per l'uomo l'obbligo di firma.